Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento dei Big Talks, un ciclo di incontri e discussioni promosso da Axi, Associazione per la cultura e per lo sviluppo industriale, un'associazione nata circa un anno fa e che ha dato vita alla Big Academy, un corso di alta formazione, Big Business Innovation and Growth. Io sono Ludovica Fiaschi, direttrice di Big e di Axi e vi parlo in diretta dal Learning Center di Becker News. Non vi nego che anche per me questa iniziativa è una sorpresa ed è sorprendente allo stesso tempo. Abbiamo deciso infatti di lanciare Big Talks in parallelo al corso Big che conoscete e che comunque vi invito a scoprire meglio sui nostri canali web e social. L'idea nasce infatti da un'esigenza di divulgazione e di condivisione di certe tematiche di cultura industriale che oggi più che mai si rivelano determinanti per poter imparare a leggere e a interpretare le sfide che ci attendono. Ci sono degli argomenti come per esempio la crisi di un certo concetto di leadership, la sostenibilità ad ampio raggio, il futuro della globalizzazione, la forte spinta che sta avendo tutto il mondo del digitale, solo per citarne alcuni, che devono essere al centro del dibattito odierno non soltanto per chi fa industria e per chi lavora in azienda ma per una comunità più estesa di persone. Con i Big Talks abbiamo deciso però di affrontare queste tematiche in modo un po' più sperimentale oserei dire, rimettendo in discussione vecchi principi e cambiando paradigma d'analisi, mettendo in atto cioè una discussione che contempli la contaminazione di vari ambiti del sapere per creare un punto di vista di osservazione nuovo e privilegiato al tema che verrà di volta in volta trattato dai nostri ospiti. I nostri ospiti ci condurranno in un ambiente neutro, libero da pregiudizi e da preconcetti dove vari saperi e ambiti disciplinari si intersecheranno per creare un reticolato che componga una visione d'insieme, un quadro generale e ci auguriamo che questo quadro poi sia di ispirazione e di visione per chi sta ascoltando. Io sono davvero felice di inaugurare oggi questa serie di incontri con Luciano Bozzo. Luciano Bozzo è professore di relazioni internazionali e studi strategici presso l'Università degli Studi di Firenze nonché membro dell'Advisory Board di Big Academy. Alcuni lo hanno definito il Vittorio Sgarbi delle relazioni internazionali altri un fantasista della geopolitica. Per me è sicuramente un battitore libero, capace di provocare reazioni e di innescare dei dubbi molto sani. E il dubbio, lo sappiamo, è la base della nascita e della crescita della conoscenza umana. Quindi gli lascio la parola e lo ringrazio nuovamente per essere qui con noi e per inaugurare questa sessione. Grazie Luciano. Grazie Ludovica, grazie per la gentilissima e un po' imbarazzante presentazione che creerà molte aspettative. Oltre a ringraziare Temi corre l'obbligo di ringraziare AXI e Big Academy. È davvero un grande piacere, oltre che un onore, essere invitato a parlare a voi tutti. Buonasera a tutti. Quest'oggi è un maggior onore essere il primo ad aprire questi Big Talks, ma ovviamente anche un grande onere. Io ho scelto di trattare un tema che credo cruciale per le nostre società, parlo delle società occidentali in particolare, e che mi pare però tanto cruciale quanto rilevante, importante in vari ambiti, che è il tema della crisi del leader e della funzione di leadership nel più vasto contesto di quella che a mio avviso è una vera e propria crisi d'Occidente. Il titolo di questa presentazione è Capitani senza padre e io mi propongo di affrontare questo tema in una maniera un po' desueta, un po' particolare, forse da sgarbi delle relazioni internazionali, come mi ha definito Ludovica, ovvero vorrei mostrarvi una serie di immagini iconiche, una serie di tele, di tavole, di rappresentazioni del leader nel corso di alcuni secoli, utilizzando appunto tele, tavole, una scultura che rappresentano il prodotto di alcuni secoli di evoluzione della storia dell'arte in questa nostra parte del mondo. E a tal fine inizierei con una straordinaria tavola di uno dei più raffinati pittori del gotico italiano, Simone Martini, uno dei massimi esponenti di una raffinatissima scuola di pittura, quella senese, e la rappresentazione di San Ludovico di Tolosa, una grande tavola conservata nel Museo di Capodimonte di Napoli, questo è un particolare della tavola, manca la predella, è il vertice della cuspide, che cosa rappresenta questa tavola? È una straordinaria, a mio avviso, rappresentazione di quello che è il concetto di autorità, di leadership, nel caso specifico di leadership politica, così come veniva intesa nell'Occidente europeo appunto all'inizio del XIV secolo, ma anche prima e come vedremo a lungo dopo questo periodo. La tavola rappresenta San Ludovico di Tolosa, era il secondo genito del re Carlo II d'Angio, dopo la morte del primo genito Carlo, Ludovico ereditò la primo genitura, ma rinunciò al titolo, alla possibilità quindi di diventare un sovrano, per scegliere invece la vita monastica, decidendo di farsi frate, frate dell'ordine dei minori, per vivere in povertà. Riuscì a realizzare questo suo desiderio poco prima della morte, avvenuta nel 1297. Nel 1317, che più o meno è la data in cui dovrebbe essere stata dipinta questa grande tavola da Simone Martini, di passaggio in quel momento a Napoli, Ludovico d'Angio venne canonizzato, quindi divenne San Ludovico, e la tavola rappresenta appunto San Ludovico di Tolosa, con gli attributi, come vedete, del Vescovo, perché era stato anche fatto Vescovo, nonostante lui avesse rifiutato, avesse tentato di rifiutare l'attribuzione di tale carica ecclesiastica, che incorona il fratello, il terzo genito, che in virtù della sua rinuncia può divenire re di Napoli. Alla destra, rappresentato più in piccolo, non a caso, vedete appunto, alla vostra destra, alla sinistra di San Ludovico, vedete il fratello Roberto d'Angio, incoronato re di Napoli. Ma quello che è interessante è vedere che cosa accade sopra il capo di San Ludovico. C'è un'altra grande corona che viene appoggiata sulla tiara Vescovile da due angeli. Si stabilisce quindi un vero e proprio rapporto di continuità, un rapporto gerarchico, tra quella che è la vera sorgente della sovranità, dell'autorità, della conoscenza, della verità, della parola. Questa sorgente è la sorgente divina. L'autorità, la sovranità, la parola ultima, discende da Dio, dall'autorità divina, e tramite il, diciamo così, il passaggio rappresentato, il tramite rappresentato da San Ludovico di Tolosa, in virtù delle, soprattutto delle sue caratteristiche di uomo, in virtù delle sue virtù, potrei dire, quindi la modestia, quindi la scelta della povertà, questa corona, più in scala ridotta, viene appoggiata sul capo di Roberto d'Angio, re di Napoli. La sua autorità, la sua leadership, il suo essere leader, discende da un'autorità superiore. Le sue parole, i suoi ordini, le sue decisioni, hanno un solido fondamento di legittimità, così come è solida questa splendida tavola, tra l'altro raffinatissima, nel fondo oro, ma anche nella decorazione del margine, i gigli degli Angio, su fondo blu. Faccio un salto di 150 anni per mostrarvi una bellissima, penso di poter dire, immagine di un particolare degli affreschi che decorano, affreschi di Andrea Mantegna, la camera picta, più comunemente nota come camera degli sposi, che è uno dei locali, per quanto piccolo, più stupefacenti, della reggia, del palazzo ducale di Mantua, appunto voluto, edificato dai Gonzaga come loro reggia. Che cosa rappresenta questo particolare degli affreschi della camera picta? Come vedete, quegli affreschi sono stati realizzati all'inizio della seconda metà del XV secolo. Rappresenta uno dei marchesi Gonzaga, in particolare si tratta di Ludovico II Gonzaga, seduto, comodamente seduto, circondato dalla propria corte, ma più precisamente innanzitutto dai propri familiari. C'è anche un consigliere che gli sta suggerendo qualcosa, appena terminato di leggere un messaggio, probabilmente un dispaccio diplomatico, di fronte a lui è seduta la moglie, e poi vedete i figli, maggiori e minori. è, come dire, la rappresentazione della serenità e della solidità del potere. Un potere, un leader, una leadership che non hanno bisogno di riconoscimento, che non temono critiche. Ma la rappresentazione è ancora più straordinaria, direi, nell'immagine successiva. Una tavola conservata nel Museo Nazionale delle Marche, nel Palazzo Ducale di Urbino, attribuita, anche se non con certezza, a un pittore spagnolo, Pedro Berruguete, una tavola che risale anch'essa all'inizio della seconda metà, all'ultimo quarto del Quattrocento, e che rappresenta appunto un ritratto di Federico da Montefeltro, duca d'Urbino, col figlio Guidobaldo. Chi era Federico da Montefeltro? Beh, diciamo che è l'unità originaria in un certo senso, nel senso cioè che nella figura di questo signore, così come di molti altri signori dell'Italia delle signorie, dell'Italia rinascimentale, così come nella figura di Ludovico II Gonzaga, sono riunite delle figure, scusatemi il bisticcio, diverse, ma che rappresentano l'autorità, l'autorevolezza e la legittimità dell'esercizio dell'autorità. Federico da Montefeltro riesce a costruire il suo Ducato, riesce ad arricchire il Ducato, trasformandolo poi in un grande centro di radiazione culturale, perché innanzitutto è un grande imprenditore, è un capitano di industria prima di essere un capitano militare, con le sue condotte, cioè reclutando uomini e poi portandoli sul campo di battaglia, comandandoli sul campo di battaglia, mettendosi al servizio dei più importanti stati italiani di questo specifico particolare periodo storico, accumula una fortuna, una ricchezza che gli consentirà di far realizzare quello straordinario palazzo, un palazzo in forma di città, è stato definito che è il Palazzo Ducale di Urbino, di concentrare lì una serie di pittori, architetti, scultori, tra cui appunto il Berruguete, ma anche per esempio Piero della Francesca o Luciano Laurana e altri ancora, di fare quindi di questa corte una delle corti più splendide, illuminate dell'Italia rinascimentale, così come lo è nel medesimo periodo storico quella dei Gonzaga a Mantua e in questa tavola sono rappresentati tutti gli attributi del potere, della leadership. Vediamo Federico da Montefeltro che indossa un'armatura a testimonianza del fatto che è innanzitutto un condottiero, un capitano e un imprenditore perché appunto riesce a reclutare uomini a farsi pagare profumatamente per i propri servizi, ma è anche naturalmente il capo dello Stato e porta sopra quell'armatura le vesti, le vesti curiali del primo magistrato del suo Stato e sopra quella veste, sopra quell'armatura porta anche i simboli degli ordini, cioè delle onorificenze che ha ricevuto l'ordine dell'ermellino in alto e in basso si nota allacciata sulla gamba sinistra fasciata nell'armatura la giarrettiera dell'ordine della giarrettiera. Al fianco porta una spada ai suoi piedi l'elmo a testimonianza del suo essere anche un combattente, la mazza ferrata, ma di fronte a lui appoggiato al ginocchio della gamba destra c'è il figlioletto Guido Baldo che in mano allo scettro del potere rappresenta la continuità del leader, della leadership, la legittimità del potere e in alto su quella specie di sostegno di mensola c'è questo copricapo donato al duca di Montefeltro dal sultano, quindi un copricapo orientale a ulteriore testimonianza del suo ruolo di capo dello Stato. Ma naturalmente Federico da Montefeltro non è soltanto imprenditore, condottiero, principe padre e anche un intellettuale con quell'enorme fortuna ha reclutato non soltanto soldati ma ha reclutato grandi artisti intellettuali e soprattutto ha costituito nel palazzo ducale di Urbino una straordinaria biblioteca infatti sta sfogliando sta leggendo un libro andando pensando sempre a quella che fu la straordinaria corte di Federico da Montefeltro non posso non mostrare questa altra incredibile tavola è incerta l'attribuzione a suo tempo era stata attribuita all'architetto Luciano Laurana progettista del palazzo ducale è stata realizzata al termine della signoria di Federico da Montefeltro e di solito è identificata come la città ideale a me dà la netta impressione di una rappresentazione del potere dell'ordine politico la certezza del potere laddove l'affresco del Mantegna in qualche maniera rappresentava la tranquillità del potere questo grande edificio centrale è il centro di potere dal quale dipende la città ideale rinascimentale un potere chiuso come vedete un potere non accessibile un potere misterioso c'è una porta che dà accesso alle stanze del potere ma è una porta socchiusa e dietro quella porta si intuisce soltanto uno spazio buio non conosciuto che non deve essere conoscibile e non deve essere conoscibile perché questo presuppone l'esercizio del potere così come è concepito negli anni in cui a Firenze è ancora piccolo Niccolò Machiavelli che poi avrà da scrivere cose assai interessanti a proposito del potere delle caratteristiche del leader dell'esercizio del potere Cosimo dei Medici per passare alla rappresentazione successiva una tela conservata oggi agli uffizi a Firenze una tela del Pontormo il ritratto di Cosimo il Vecchio risale più o meno come vedete all'inizio del secondo decennio del Cinquecento e è interessante notare come ancora una volta l'uomo di potere il leader è comodamente seduto su una sedia si potrebbe discutere molto e non c'è tempo di farlo su questi leader seduti comodamente seduti ma come vedremo poi nelle raffigurazioni artistiche sempre meno comodamente seduti al passare del tempo sulla spalliera di questa sedia vi è un'iscrizione in latino che recita Cosimo Medici no Cosimo dei Medici pater patrie anche lui è padre è il vero capostipite anche se non il primo in ordine temporale della famiglia di DC è quindi un pater familias come lo era Federico da Montefeltro ma anche e contemporaneamente e non a caso il padre della patria è anche un grande banchiere un grande imprenditore quello che ha fatto la fortuna della famiglia Medici e questo questo concetto della famiglia dell'importanza della famiglia della trasmissione della legittimità del potere per i rami della famiglia è ben rappresentato e volutamente rappresentato dalla pianta di alloro che sta alla sua destra l'alloro diviene nel 400 uno dei simboli identificativi della famiglia dei Medici Lorenzo Laurus e questa tavola viene dipinta in un momento che pare critico per la famiglia dei Medici perché è morto Lorenzo dei Medici che non è Lorenzo il Magnifico è Lorenzo Duca d'Urbino e infatti se notate quella pianta d'alloro ha un tronco principale un ramo principale che è tagliato che è spezzato sulla destra di Cosimo e però vi sono dei rami nuovi che stanno germogliando che stanno crescendo e infatti attorno ad uno di questi rami ha torcigliato un cartiglio nel quale è iscritta una citazione dall'Eneide Virgiliana con una piccola modifica uno avulso non deficit alter cioè venuto meno uno ovvero Lorenzo Duca d'Urbino non ne mancherà un altro c'è una continuità del potere c'è una continuità della famiglia dei Medici che in effetti si realizzerà con un ramo secondario come è secondario il ramo di questo all'oro simbolo dei Medici il ramo di Giovanni delle Bande Nere il cui figlio poi assurgerà al titolo Granducale con il titolo guarda caso di Cosimo I proprio a ricordare Cosimo il Vecchio ancora una volta abbiamo qui l'imprenditore che non soltanto è uomo d'affari è manager potremmo dire oggi di straordinario successo nell'Europa rinascimentale ma che è anche capo di Stato perché è lui l'ispiratore della signoria fiorentina e che tra l'altro esercita questo potere nell'ombra senza mostrarsi senza mostrarlo senza farne sfoggio e al tempo stesso è anche però dicevo pater familias faccio ancora un salto temporale mi mostro questa questa straordinaria tela 1627 di Franz Hals un pittore fiammingo meno noto di altri ad esempio Rembrandt o Fermet rappresenta il banchetto degli ufficiali della milizia civica di Sant'Adriano ad Arlen siamo all'inizio del 600 l'Olanda è al vertice all'inizio di un periodo splendido della sua storia nazionale e io come vedete in calce in margine a questa tela ho voluto riportare il titolo di un'opera pubblicata nel 1905 di Max Weber l'etica protestante è lo spirito del capitalismo che cosa rappresenta questa tela il trionfo della borghesia del concetto di leader e leadership nel secolo in cui in Olanda come altrove in Europa anche in conseguenza della riforma protestante trionfano i valori borghesi questi sono leader sono commercianti sono imprenditori sono anche dei militi di una milizia civica gli ufficiali di questa milizia civica ne portano i simboli queste bande queste fasce che portano sugli abiti da ricchi borghesi come vedete sono pienamente soddisfatti tutti i loro atteggiamenti i loro sguardi i loro volti mostrano tranquillità e soddisfazione e la soddisfazione nell'ottica dell'etica calvinista dell'etica luterana del leader che si sente depositario della grazia divina ha avuto successo e il successo che ha avuto negli affari nei commerci nei traffici in politica nell'esercizio dell'arte militare è la prova ultima o se volete prima della grazia divina che lo benedice è l'ordine naturale delle cose qui mi è piaciuto riportare una scultura o meglio una targa una targa bronzea che di solito non viene notata quando chi attraversa piazza della Santissima Annunziata Firenze è attratto dalla straordinaria statua equestre di Ferdinando Primo de' Medici ma questa statua basata su un basamento in marmo sul quale sono riportati nella parte anteriore e posteriore due targhe due cartigli bronzei questo è quello posteriore che pochi notano che cosa rappresenta di Pietro Tacca e siamo una ventina d'anni dopo la tela precedente di Franz Hals maiestate tantum questo può la maestà questo può il leader questa è la leadership che cos'è la leadership e qui è rappresentato un alveare al centro c'è l'ape regina che è più grande che sta al centro dell'alveare dal quale dipende la prosperità e anche la continuità dell'alveare perché l'ape regina è l'ape feconda l'ape che può consentire la propagazione della specie tutte le altre api la servono sono disposte attorno a lei in cerchi concentrici dal più lontano al più vicino questa è la corte medicia questa è la rappresentazione di quella che fu una corte che precorse l'idea il concetto stesso di stato assoluto in Europa che poi avrà la propria massima manifestazione nella seconda metà di quel secolo nella Francia di Luigi XIV è l'ordine naturale delle cose che legittima l'esercizio della leadership è il leader che sta al centro della scena politica della scena sociale la peregina dicevo eccola qua la peregina una famosissima rappresentazione di Luigi XIV il re sole che come il sole irradia un sistema planetario la corte di Versailles che sta al centro di questo sistema che non ha bisogno di legittimazione perché la sua è un'autorità divina è re per volontà divina ed è il centro della nazione come sarà poi chiamata la società francese di lì a pochi anni è il centro dell'autorità politica da lui promana l'autorità politica è il leader per antonomasia ma passano pochi anni passano 90 anni e assistiamo alla morte del padre una celeberrima tela conservata in Belgio a Bruxelles di David la morte di Marat la morte di Marat è una tela straordinaria anche perché si riallaccia la posizione di Marat appena ucciso è la stessa posizione del Cristo deposto di Caravaggio nella chiesa di Santa Maria originariamente nella chiesa di Santa Maria in Vallicella Roma Santa Maria Nuova e oggi nei musei vaticani e quella rappresentazione si riallacciava si ricollegava a un trasporto del Cristo morto di Raffaello ma guardate l'anno in cui è stata dipinta questa tela è il 1793 è l'anno in cui i rivoluzionari francesi i giacobini tagliano la testa ghigliottinano Luigi XVI la morte di Marat è anche la morte di Luigi XVI la morte di Luigi XVI è la morte del padre del padre della patria prima di lui è morto un altro padre quel padre che legittimava l'esercizio del potere nella società e nella cultura medievale che era il padre eterno l'uscita di scena del padre eterno precorre l'uscita della scena dei padri della patria e quindi la morte e la morte del padre e anche del pater familias è la società borghese dell'ottocento francese ed europeo la famiglia Bellelli una rappresentazione straordinaria il padre di questa famiglia Gennaro Bellelli era un barone napoletano sposò una zia dell'autore di Ardegà Laura che vedete sulla sinistra ebbero due figlie Giovanna e Giulia ma guardate questo interno tipicamente borghese ottocentesco fiorentino perché Bellelli il barone Bellelli era stato esiliato da Napoli in quanto fervente sostenitore della causa patriottica italiana Bellelli è seduto e ancora una volta è seduto su una poltrona come tutti gli altri leader che lo hanno preceduto e che vi ho mostrato ma volge le spalle all'osservatore è chiuso in se stesso aveva un pessimo rapporto con la consorte lo dimostra chiaramente questa tela guardate l'espressione dei due non si guardano lei è assorta è quasi persa nel vuoto le stesse figlie non lo considerano Bellelli è chiuso in se stesso fu senatore del Regno d'Italia fu un grande comidità potremmo dire in francese è la nuova forma di esercizio della leadership nell'Europa borghese una leadership che stenta a trovare un fondamento diverso rispetto a quello dell'esercizio dell'interesse individuale egoistico ancora più straordinario Le Balcon di Manet quando questo quadro fu esposto per la prima volta come vedete è stato realizzato più o meno nello stesso periodo del quadro precedente i critici osservarono che si trattava della rappresentazione di tre in realtà sono quattro nell'oscurità si intravede un quarto personaggio i critici osservarono che si trattava di pupazzi sono in realtà dei pupazzi è una società borghese che non trova più se stessa l'unico personaggio forse più vivo è quello in primo piano la ragazza molto bella che si appoggia alla balaustra in ferro del balcone che poi è una grande pittrice impressionista Berne Morisot gli altri sono tutti amici di Manet uno quel ragazzino più giovane che si intravede alle spalle di tutti è probabilmente un figlio di Manet e questa è la rappresentazione di una borghesia che ostenta se stessa ma compie quest'opera di ostentazione in una maniera molto diversa se ci pensate a quella che era l'ostentazione dei Gonzaga dei Montefeltro dei medici sono chiusi non comunicano sono direi psicologicamente morti e non lo dico per caso si guardano dal balcone sembra che stiano osservando una qualche manifestazione una qualche cerimonia parata che avviene nella strada ma in realtà sono loro l'oggetto e vogliono essere oggetto di osservazione è la semplice manifestazione del proprio privilegio sociale ma è una società che nella quale si intuisce l'inizio di una crisi non c'è più il padre non c'è più il padre e non a caso questa rappresentazione di le balcone ha dato poi origine a molti anni dopo molti decenni dopo a questa rivisitazione è ad opera di un grande surrealista René Magritte le balcone de Manet è esattamente la stessa rappresentazione lo stesso balcone le imposte aperte c'è la pianta sulla sinistra Hortensie ma ci sono anche i quattro personaggi uno nell'ombra gli altri in primo piano ma sono bare e sono bare solidamente inchiodate c'è una incommunicabilità tra di loro dei personaggi e dei personaggi con chi li sta osservando cioè con il pubblico cioè con i cittadini cioè con i sottoposti di qui è facile il salto al 1926 nel frattempo che cosa è successo? la prima guerra mondiale la crisi d'Europa l'inizio della seconda guerra dei 30 anni quella che inizia nell'estate del 14 finirà nel maggio del 1945 una guerra nella quale gli europei l'Europa si distrugge una grande guerra civile se volete nella quale dalla quale esce distrutta anche la figura del leader e perché esce distrutta la figura del leader della leadership semplicemente perché le leadership europee non sono state in grado di evitare la guerra e hanno portato l'Europa al suicidio guardate come un grande espressionista tedesco della Repubblica di Weimar negli anni della Repubblica di Weimar George Gross rappresenta la leadership in questo caso tedesca questa tela straordinaria intitolata in tedesco come vedete eclissi di sole un sole in eclissi sul quale appare che cosa è il simbolo del dollaro i personaggi in redingote o in fracche che stanno sulla sinistra sono tre politici e questi politici come vedete sono rappresentati senza testa non hanno più testa ascoltano rispondono agli ordini di un generale che però in realtà potrebbe essere il capo dello stato tedesco che in realtà però è a sua volta un pupazzo un pupazzo ubriaco come vedete ha le gotine rubizze del pari il naso ma a sua volta non gestisce nulla ha appoggiato la sua spada insanguinata sul tavolo che è un tavolo da gioco dove si gioca una partita rischiosa una partita di poker e ascolta all'orecchio i suggerimenti di chi? di un grande finanziere con la tuba il quale sotto il braccio porta che cosa? una locomotiva delle armi c'è una baionetta per esempio i politici prendono ordini da un potere oscuro non legittimato il loro potere la loro leadership deriva dalla finanza da interessi puramente materiali e guardate sulla destra sulla destra c'è un giornalista anche lui senza testa che sta scrivendo un articolo e purtroppo in questo particolare non si vede un'altra parte significativa della tela quel ciuchino quel lasinello con i paraocchi che sta mangiando in una mangiatoia gli articoli scritti dal giornalista anche lui senza testa che gli passa di continuo che gli getta nella mangiatoia e quel quell'asinello rappresenta la cittadinanza i cittadini il popolo che volgono le terga ai politici che non credono più nei loro leader perché hanno pagato il prezzo della guerra ma che a loro volta sono vittime di quello che viene dato loro impasto dalla stampa dai media loro stessi non sono più in grado di giudicare hanno i paraocchi non hanno più nessuno che li guidi se non al disastro infatti il disastro si sta avvicinando siamo nel 1926 sei anni dopo i nazisti andranno al potere e pochi anni dopo quella presa del potere da parte di Adolf Hitler scoppierà la seconda disastrosa guerra totale del novecento la seconda guerra mondiale e però proprio questa assunzione del potere ad opera di leader che poi determineranno la nascita di totalitarismi in Europa è in qualche modo la testimonianza di una nostalgia del leader e della leadership e ve la dimostro con due immagini straordinarie nostalgia in lingua russa è questo il nuovo pater patrie guardate come in questa rappresentazione tipica insomma della retorica caratteristica del socialismo reale viene raffigurato Stalin Stalin questo spietato dittatore questo criminale che viene rappresentato però come un amorevole padre che sta portando nelle braccia e sollevando questo bimbo che sventola la bandierina dell'unione sovietica il leader dello stato totalitario il leader assoluto rappresentato come un nuovo affettuoso pater patrie oppure come colui come il condottiero che il titolo di quest'opera spesso utilizzata facendo riferimento alle rappresentazioni dell'arte nazista è il portatore dello standardo quest'opera che poi è stata bottino bellico preda bellica dei militari americani e oggi sta nel museo dell'esercito degli stati degli stati uniti ma è un condottiero chiuso un condottiero che come quel pater patrie presunto amorevole che vi ho rappresentato prima in realtà è il primo criminale il primo nemico del proprio popolo quello che porterà il proprio popolo al disastro alla distruzione come ne escono i leader da questa totale perdita di credibilità di legittimità ne escono male i grandi leader totalitari del novecento ma non ne escono molto meglio i leader delle democrazie occidentali questo ritratto di Winston Churchill ha una storia del tutto particolare fu commissionato dal Parlamento inglese per conservare negli edifici del Parlamento britannico un ritratto ufficiale di Churchill ma quando il dipinto realizzato da Sutherland fu esposto per la prima volta Churchill ebbe un travaso di bile non accettava e infatti Sutherland non gli aveva fatto vedere se non dei minimi bozzetti di questa sua rappresentazione pittorica non accettava di essere rappresentato così vecchio in abiti civili con un'espressione nient'affatto rassicurante con tutti i suoi vizi limiti di uomo avrebbe voluto Churchill essere rappresentato nelle vesti ufficiali di grande statista con quell'uniforme che gli sarebbe spettata e invece viene raffigurato come un povero vecchio e vedete ancora una volta è seduto su una sedia molto modesta si intuisce su una poltrona molto modesta alla quale sta in qualche maniera aggrappato anzi la mano sinistra sembra la mano di un uomo che comincia ad essere affetto dai disturbi tipici dell'uomo molto anziano che ha avuto una vita molto travagliata anche da un punto di vista psichico come era il caso di Sir Winston Churchill 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 fece portare questa tela in una sua residenza e a quanto pare fu la moglie di Churchill a distruggere questa tela che oggi non esiste più non c'è miglior rappresentazione del leader dell'uomo tormentato della seconda metà del novecento dei ritratti di Francis Bacon uno straordinario artista come sapete britannico guardate questo ritratto di un grande intellettuale francese che era in rapporto di scambio scambio intellettuale con Bacon risale al 1976 è la dissoluzione è la dissoluzione dell'essere dell'essere umano è la dissoluzione dell'autorevolezza dell'autorità di qualsiasi principio di legittimità e di legittimazione e in qualche maniera ancora meglio questo è rappresentato da un pittore che amo tantissimo britannico anche lui Freud Lucien padri e figli ho voluto aggiungere ancora una volta questo che potrebbe essere un banchiere un imprenditore un manager anche lui seduto come tutti quelli che l'hanno preceduto ma perso sconsolato assente privo di capacità di comunicazione anche con lo stesso spettatore del dipinto e dietro di lui un figlio un figlio che si aggrappa disperatamente come vedete a quella sedia con uno sguardo sconvolto direi con un'espressione autistica incapace di decidere non sarà lui l'erede di questo imprenditore si realizzerà in lui la legge dei Buddenbrock la prima generazione accumula la seconda consolida la terza disperde il patrimonio non c'è più una legittimità non c'è più una legittimazione non c'è più un'autorevolezza del leader il leader del futuro allora il leader di oggi ho deciso di chiudere questa presentazione con una scultura una scultura che risale a pochi anni fa di Jean Tangeli Tangel un autore svizzero uno scultore svizzero che rappresenta questa sorta di uomo macchina di testa macchina oggi la leadership non è più esercitabile a quanto pare perché non ha più una base di legittimità una base di consenso è in crisi la leadership politica ma è contestata la leadership del manager la leadership quindi del capitano di impresa la leadership dell'intellettuale del docente universitario per non parlare della leadership del genitore sia esso uomo maschio come in passato o madre o donna e allora la leadership del presente e del futuro così come nel medioevo la leadership trovava il suo fondamento di legittimità dal fatto di promanare dall'alto di discendere dall'alto oggi forse l'unica fonte di legittimazione consiste nell'algoritmo nell'intelligenza artificiale la leadership che viene demandata alla macchina ha un cervello potente persino più veloce e sofisticato di quello del leader e che esclude quindi l'umano l'umanità dall'adozione delle decisioni che legittima qualsiasi decisione nell'oscurità dei meccanismi della macchina il passaggio dalla società dell'uomo del leader con tutti i suoi limiti i suoi difetti ma anche con la sua capacità di decidersene di assumere la responsabilità morale dello delle decisioni all'età del post umano dell'intelligenza artificiale di Hall il computer di 2001 Odissea nello spazio come mi ricordava all'inizio di questa prima dell'inizio di questa presentazione la mia amica Ludovica Fiaschi che mi ha fatto la cortesia di introdurmi grazie scusatemi ho forse un po' sforato l'orario della presentazione spero che sia stata sufficientemente interessante per voi che l'avete pazientemente ascoltata grazie no grazie molto Luciano veramente per questo tuo escursus illuminante che ci ha condotto via via in un decadimento del concetto di leadership così come diciamo era stato concepito quindi con tutte quelle diciamo quelle legittimazioni che fanno riferimento all'autorità al potere mi chiedo e ti chiedo se a questo punto tu ci hai parlato poi di una di una presa di potere diciamo di leadership da parte dell'intelligenza artificiale c'è speranza però per poter dominare in qualche modo e condurre per mano perché oggi parliamo di una leadership specialmente in azienda di una leadership nuova che sempre meno si lega al concetto di autorità sempre più si lega al concetto di carisma sempre più si lega a quel termine francese manager che ci riportano a una locuzione latina manuagere quindi andare per mano condurre con l'esempio con la virtù ecco mi chiedo per questo per questo tipo di leadership c'è speranza di redenzione di resurrezione visto che siamo anche vicini alla Pasqua ma Ludovica autorità è un termine che si sposa con il concetto il termine di autorevolezza per avere autorità innanzitutto bisogna avere autorevolezza questo è espresso in maniera magistrale direi nel Nuovo Testamento gli apostoli seguono il Cristo perché lui parlava con autorevolezza ci dicono i Vangeli e questa autorevolezza da che cosa deriva indubbiamente dalla virtù dall'esercizio delle virtù dalla capacità di trascinare gli uomini leader deriva dal verbo to lead quindi condurre il condottiero è colui che conduce i propri uomini il capitano di impresa è colui che come il capitano nelle forze armate si prende la responsabilità di condurre i propri uomini e nel passato questo è sempre stato vero d'altra parte questa autorevolezza deriva dalla legittimità da un principio di legittimità e di legittimazione nell'Europa medievale anche in quella rinascimentale questo principio di legittimità l'ho detto ho mostrato alcune immagini scendeva dall'alto la legittimazione ultima era quella divina pochi giorni fa un carissimo amico mi ricordava un apologo che compare nel Fedro di Platone nella parte conclusiva del Fedro di Platone si racconta di questo dio che parla al faraone se non ricordo male Teut il dio parla al faraone e vuol dare al faraone la scrittura cioè suggerisce al faraone di dare agli uomini la capacità di scrivere quindi di leggere quindi di consolidare le proprie conoscenze il faraone scettico non vuole dare agli uomini la verità in forma di scrittura preferisce l'oralità preferisce avere un controllo su quello che viene distribuito su quello a cui gli uomini possono avere accesso e quindi c'è questo rapporto mediato la verità la legittimità che viene dalla divinità dal dio Teut e attraverso il faraone legittima dal faraone la possibilità poi di parlare agli uomini di dare una parte di questa verità agli uomini di avere autorevolezza bene questo era vero finché esisteva appunto una linea gerarchica precisa che dal padre eterno passava ai padri della patria comunque declinati definiti e dal padre della patria passava fino addirittura al pater familias a un certo punto per parafrasare Woody Allen Dio è morto è morto pure Marx e anche Woody Allen diceva io non mi sento per niente bene tutti noi non ci sentiamo per niente bene perché? perché viviamo in società nelle quali si è affermato un curioso principio uno vale uno ma se uno vale uno quello che dice lo scienziato in materia di pandemia equivale a quello che dice il mio caro amico che segue le teorie le più strane e curiose perché uno vale uno quello che vi racconta qui il professor Bozzo vale quello che pensa uno ciascuno di noi quello che mi dice il politico di primo piano è del tutto questionabile perché quello è lì però ci potrei stare io ci potrebbe stare qualcun altro essendo venuto meno il dio Teut che parlava al politico il quale poi si prendeva la responsabilità di tradurre questo per gli uomini non essendovi più nessuno che mancando la legittimazione del dio Teut può autorevolmente parlare per esempio alla cittadinanza per esempio a coloro che vogliono essere informati in materia di epidemie e pandemie per esempio a coloro che frequentano un'aula universitaria bisogna trovare un sostituto e questo comodo sostituto è l'algoritmo ti raccontavo e chiudo brevemente un piccolo episodio prima dell'inizio di questa chiacchierata qualche giorno fa ascoltavo le interviste ai dipendenti di Amazon in sciopero contro la loro azienda e questi signori dicevano e posso capire perfettamente il loro punto di vista noi ci rispondono sempre i nostri referenti e non è colpa nostra è l'algoritmo l'algoritmo dice che tu devi consegnare un tot di pacchi in un tot di minuti l'algoritmo non tiene conto di quelli che sono i limiti dell'individuo del semaforo che è rosso dell'incidente che può capitare del fatto che improvvisamente scoppia un temporale eccetera far riferimento all'algoritmo è molto comodo è molto comodo perché esenta il leader da prendersi le sue responsabilità no? far riferimento al comitato tecnico scientifico in cui poi ognuno dei membri dice quello che vuole magari in contrasto tra di loro esenta il leader politico dal prendere delle decisioni e dal pagarne le conseguenze qualora quelle decisioni fossero errate questo è il punto fondamentale la delega di responsabilità nella società dell'uno vale uno ognuno delega vuole delegare la propria parte portione di responsabilità grande o piccola che sia e qui la macchina arriva come la resurrezione attesa il dio salvifico non c'è più teut c'è l'intelligenza artificiale c'è il super computer quantico c'è l'algoritmo che mi dice come devo fare non sei contento? te la prendi con l'algoritmo peccato che a Luigi XVI è stato possibile tagliare la testa tagliare la testa all'algoritmo e all'intelligenza artificiale è un pochino più complicato grazie Luciano veramente questa mia domanda ti ha acceso e ti abbiamo visto questo vuol dire che prima ero spento no 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 non mi non so no 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 assolutamente e nessuna conclusione fu migliore di quella che cita appunto il nostro comune amico Platone quindi ringrazio ti ringrazio molto grazie a voi per questo primo suo intervento e spero ce ne saranno altri a venire in future sessioni grazie ancora Luciano e buon pomeriggio grazie a tutti grazie 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 mille grazie a tutti